Archiviate le polemiche di portata nazionale sulle ragazze reggitrici di ombrelli a Fonderia Abruzzo, torna oggi a riunirsi il Consiglio regionale. Tema caldo che sarà inserito all'ordine del giorno e già oggetto di vivace dibattito in prima commissione bilancio, un nuovo finanziamento a favore della Saga, la società regionale che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Di 1.250.000 euro per il 2017, di 2,5 milioni di euro per il 2018 e anche per il 2019. Soldi che serviranno, si legge nella bozza dell'emendamento, per finanziare un piano strategico di promozione volta ad affermare il brand Abruzzo nei mercati di riferimento. Ci sono diverse disposizioni normative, probabilmente la più importante, ma adesso siamo ancora in fase di commissione, vedremo se va in aula oggi o al prossimo Consiglio, mi auguro che vada oggi, c'è il finanziamento alle spese di funzionamento della Saga, fatta secondo norma europea, non più i pasticci del passato per cui poi veniva impugnato dal governo e dal governo la Corte Costituzionale faceva decadere le leggi. In questo caso finanziamo nei limiti di ciò che è considerato dall'Europa non aiuto di Stato. La regione, la parte pubblica in questo caso, la regione può partecipare alle spese di funzionamento per gli aeroporti ma solo se finalizzato alla promozione della regione, quindi in termini turistici, però nei limiti di una cifra. Oltre quella viene considerata aiuto di Stato. Noi stiamo operando nei limiti di quella cifra, tutto il resto Saga da alcuni anni sta lavorando perché il mercato risolva il problema dei minori finanziamenti, tant'è che c'è stato un bando di gara e quel bando di gara si è stato aggiudicato da alcune compagnie e noi continuiamo questi soldi e servono esattamente per metterle poi a gara le rotte. L'opposizione di centrodestra però mostra già forti perplessità, soprattutto per le coperture economiche. Per il Movimento 5 Stelle il Consiglio regionale continua a non affrontare i temi che interessano davvero gli abruzzesi. Sul finanziamento della Saga noi non ci siamo mai opposti perché l'aeroporto d'Abruzzo per noi è la seconda infrastruttura regionale dopo il porto di Ortona per cui credo che sia giusto e doveroso intervenire. Il problema è che non si può arrivare ad un finanziamento peraltro di 2 milioni e mezzo di euro portando un emendamentino di due righe. Non si capisce dove vengono presi i soldi. Qualcuno dice che i soldi sono stati presi dal trasporto pubblico locale, che già è sotto di 10 milioni di euro. Quindi francamente noi non abbiamo nulla, ripeto, contro il finanziamento della Saga e dell'aeroporto d'Abruzzo. Abbiamo problemi nel capire come si arriva a questo finanziamento. Come al solito la fretta è cattiva consigliera, come al solito qua si amministra in totale disorganizzazione e questi sono i risultati. Rimandato ormai da parecchio tempo, quasi a tempo indeterminato. È chiaro che la Regione in questo momento è un po' in un pass. In un pass è il Presidente del Consiglio e in un pass anche il Presidente della Regione. Noi attendiamo fiduciosi che prima o poi questo immobilismo finisca e noi cominciamo a discutere anche di cose un po' importanti e che la Regione ne ha bisogno.